Ci ha raggiunto i nostri studi, avete letto su tutti i giornali, cuore già rossa, Antonello De Pierro, il nuovo inno della Roma. Eccolo qui, un applauso a Antonello, sta qui i nostri studi. Buonasera. E ci ha raggiunto anche Giorgio Ceccarelli, ci parlerà fra poco di alcune manifestazioni dell'ARAC. Chiamano ancora insieme 20 minuti, già si sono organizzati e Antonello De Pierro ci canterà il nuovo inno della Roma. Attenzione, registratelo, vi do qualche secondo di tempo. Prego, Antonello vai. Buonasera. Le bandiere verso il cielo, sventolano già, come bella giallorossa tutta è la città. E domenica il sole ci saluta di lassù, i suoi raggi sopra il Tevere che scorre là. Sotto i ponti e tutti intorno ci sei tu, bellissima città che vive questo giorno. Giallorosso il tuo colore, giallorosso tutti intorno, giallorossa la tua squadra, giallorosso il nostro cuore, giallorossa questa Roma. Nostro grande amore, bandiere e sciarte al vento, quanta gente che cammina, mi riempie d'emozione. La domenica mattina ed un grido rassente si leva già nell'aria, l'urlo della curva che si alza e va. Va, vola lontano e l'ogni cuore giallorosso scalderà. Vola lontano e un altro cuore giallorosso nascerà. Va, va, tutta la curva, solo Roma, sempre Roma, candena. Roma nell'aria, Roma nel vento, Roma nel cuore, tre sera. Grazie mille. Bravissima Antonello. Grazie mille. Antonello all'altro, speriamo che tu possa avere la fortuna di Antonello Venditti con il suo inno alla Roma, è la fortuna che ha portato Antonello Venditti poi alla Roma, infatti dicevo Scudetto. Io veramente quest'anno mi sto portando molta fortuna, però nelle ultime settimane sta andando molto meglio. Da quando è uscito il tuo disco? No, il disco è veramente uscito fino a ottobre. Ma l'ho letto sui giornali adesso, stiamo partendo di pubblicità in questo momento? Sì, no, abbiamo fatto questa pubblicità, però continua naturalmente la promozione. In bocca al lupo ci vediamo che c'è anche l'altra molto bella, l'altra facciata, la vediamo un'altra domenica. Grazie, un applauso ad Antonello. Passiamo subito a vedere il filmato del Basker.